Combattere lo stress metabolico e fare attenzione alla glicazione è questa la prima regola anti-invecchiamento spesso sottovalutata. Troppi zuccheri nella nostra dieta possono contribuire ad accelerare il processo di rughe, macchie sulla pelle e seri problemi di salute. Dottore che cosa si riferisce con il termine AGE? Perfetto, allora AGE è legato ad un processo che si chiama glicazione e altro non è che un processo che prevede il legame tra degli zuccheri sia intra che extracellulari con delle proteine. Questo legame genera delle molecole alterate e malfunzionanti definiti appunto AGE che è l'acronimo di Advanced Glication and Products, prodotti avanzati della glicazione. Gli zuccheri interessati, ha spiegato il nutrizionista Francesco Lampugnani, sono il glucoso e il fruttoso e per il fatto che questo processo non preveda la presenza di enzimi significa che i prodotti derivanti tendono ad accumularsi. Quindi vanno tenuti in debita considerazione e questi prodotti ahimè sono molto tossici come vedremo adesso nel corso del... E hanno una correlazione anche con l'invecchiamento? Esatto, allora AGE ed invecchiamento in generale praticamente sono molto ma molto legati. Guarda caso il termine AGE coincide con il termine AGE, sempre scritto AGE, che in inglese significa invecchiamento e l'altra parola molto usata ultimamente, anti-aging, capita proprio a proposito. Non si può parlare di longevità, ha proseguito l'esperto, senza una riduzione di questo processo metabolico. Infatti, numerose evidenze scientifiche stanno portando a correlare danni causati dal processo di glicazione alla graduale perdita di elasticità del collagene. Il risultato è la perdita di elasticità da parte di numerosi organi e come spesso si verifica con l'età che avanza cuore, vasi, occhi, articolazione, tessuto nervoso e pelle. Non ultima è quella la pelle che tende ad essere più ispessita, con più rughe. Ma la cosa più importante da avere in evidenza come obiettivo è il nostro apparato cardiocircolatorio, che ne risente maggiormente. Gli AGE possono essere assunti con l'alimentazione, ma vengono anche prodotti dal nostro organismo, sebbene in quantità ridotte. Quelli dall'esterno purtroppo sono quelli che fanno più danni. In primis c'è il fumo di sigarette e poi l'utilizzo di una serie di alimenti chiamati veramente in causa molto prepotentemente, tipo la carne rossa, la carne di maiale. Ma altre cose importanti sono proprio i metodi di cottura. La cottura, qui non mi stancherò mai di stressare chi è vicino ai fornelli e quindi si prepara anche da mangiare, bisogna tenerla a livelli molto bassi. La famosa reazione di Maillard che tende a produrre queste sostanze una volta superati i 120 gradi è sempre in agguato. Per cui, tradotto, evitare cotture che prevedono l'utilizzo di alte temperature come la brace, le fritture, l'imbrustolimento dell'alimento, l'imbrunimento, c'è tutto quel marroncino, quel bruciacchiato che ahimè a molti piace, purtroppo è molto tossico. Bisogna optare, al contrario, per metodi di cottura che tengono la temperatura più bassa come la bollitura, il vapore, il cartoccio, l'umido, ma non solo. Quindi preferire la frutta fresca, le verdure fresche, tenere bassi i livelli di glucosio e ridurre molto l'assunzione di zuccheri e zuccheri semplici, i dolci praticamente, che tendono a mantenere la glicemia sempre un po' più alta. Fortunatamente è stato messo a punto, è stato ritrovato la carnosina, che è un dipeptide, cioè ci sono due amminoacidi, che è presente anche nella carne ed si è dimostrata una valida sostanza di aiuto come antiglicazione. L'altra situazione importante è avere a disposizione da poco uno strumento molto ma molto interessante e avveniristico, mi consenta, che permette di valutare la presenza e la tipologia di questi age nell'organismo con una semplice rilevazione, poggiando il braccio appunto su questo strumento. una luce a fluorescenza mi va a leggere nel connettivo e nelle arterie e nelle vene e mette in evidenza il valore di questi age, quindi si può fare prevenzione. Io nel mio studio ho iniziato perché ho avuto piacere di prenderlo e quindi è a disposizione dei pazienti per quanto riguarda questo tipo di prevenzione.